La Torres riesce nell'impresa, vince 2-1 contro la Fragolese e si guadagna un'ottima posizione in caso di ripescaggio per la Serie C. Nella prima parte della ripresa, Kujuabi e Rocco hanno dato il vantaggio in una serata che da subito ha scaldato il cuore di tutti i tifosi presenti. A nulla è servito il gol sul finale di Elefante nel disperato tentativo di riprendere una Torres ormai con la testa in Serie C. La soddisfazione del presidente Udassi e di tutta la dirigenza era palpabile, merito anche degli ottimi investimenti fatti per rafforzare alla rosa della Torres. A fine gara una grande invasione di campo con dei festeggiamenti paragonabili a quelli di un'effettiva promozione. Ora non rimane altro che sperare e incrociare le dita. Forza Torres!